A seguire il finale meno 70 punti, liberati con i tuoi turni A seguire i punti e i tuoi turni, liberati con i tuoi turni A seguire i punti, liberati con i tuoi turni A seguire i tuoi turni, liberati con i tuoi turni A seguire i punti, liberati con i tuoi turni A seguire i tuoi turni, liberati con i tuoi turni A seguire i tuoi turni, liberati con i tuoi turni, liberati con i tuoi turni A seguire i tuoi turni, liberati con i tuoi turni, liberati con i tuoi turni A seguire i tuoi turni, liberati con i tuoi turni, liberati con i tuoi turni Grazie. Grazie.